Lorenzo, oh ma quanto gente, Giusi, Danilo, Alin, ciao, le vedo una giornata da leone, oh mamma mia, oh la la, Simone, come dicevo, come l'ho sempre detto, abbiamo, uno, guarda subito la corda, due, da Osorio, Daetano, a domani Daetano, anche il maceracino, bro, e chi la dura la vince, e oggi ha fantastico oggi, sette, ma Andrea, un'altra, me l'ha fatto tanto, che voleva fare il trentesimo, se non sbaglio, l'ha fatto, l'ha fatto, l'ha fatto, ah, l'ha fatto, ah, l'ha fatto. Guarda che tono. un po' di Maurizia un po' di chiamare la prima città negli occhi andiamo a come le travesse e travesse e travesse dai 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 vedi vede il tello ragazzi vede vede ecco che vai in acqua vede 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 Sì, non puoi riuscire. Sì, non puoi riuscire. Tutto è bloccato. Sì, non puoi riuscire. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.